Le presunte interferenze russe nella campagna elettorale per le presidenziali USA scatenano la reazione di Obama, che pur con il mandato al tramonto dispone sanzioni ed espulsioni. Alle stelle la tensione con il Cremlino. Laura Supino. E' la crisi diplomatica più grave dai tempi della guerra fredda, quella esplosa tra Russia e Stati Uniti proprio al tramonto dell'era Obama. Il presidente americano uscente ha deciso di reagire duramente alle presunte interferenze da che raggi russi ai danni del Partito Democratico nelle presidenziali USA. La sanzioni sono state disposte nei confronti delle due principali strutture di intelligence di Mosca, di quattro ufficiali, di tre società, ma soprattutto è stata ordinata l'espulsione di 35 diplomatici russi dagli Stati Uniti, accusati di spionaggio. Chiuse due strutture associative in territorio americano. Obama ha promesso di presentare nei prossimi giorni al Congresso le prove contro il Cremlino per Trump, che a gennaio lo sostituirà alla Casa Bianca, una bella gatta da pelare, visti anche gli ottimi rapporti con Putin. Per ora il presidente eletto già attacqua sul fuoco e promette una verifica con i vertici dell'intelligence. Mosca parla intanto di sanzioni illegali e si prepara a dure ritorsioni. Imminente sarebbe l'espulsione dalla Russia di 35 diplomatici americani. E l'attenzione della Russia in questo momento è anche concentrata sul fronte siriano. Gli accordi in Siria sono fragili e hanno bisogno di pazienza e attenzioni particolari, ha detto lo stesso Putin. Mosca si fa garante con la Turchia del cessato il fuoco generale scattato stanotte a mezzanotte ora locale e siglato dal governo di Damasco e da tutte le sigle escluse quelle legate all'Isis. Nonostante la tregua combattimenti in diversi punti del paese sono stati segnalati nelle ultime ore. Nuovo caso sospetto segnalato nel napoletano dopo il 18enne morto di meningite due giorni fa a Castellammare di Stabia. Analisi in corso sul corpo di un uomo di 46 anni morto a Napoli dopo aver avuto una febbre molto alta. Ieri il decesso di un bimbo di 22 mesi non vaccinato all'ospedale Meyer di Firenze. Da ieri a Genova una donna peruviana di 34 anni è ricoverata in rianimazione. Un altro caso a crema. Auguri a Patti Smith che oggi compie 70 anni. La cantautrice, simbolo della musica d'autore americana, festeggerà in concerto a Chicago con gli amici più cari. La sacerdotessa del rock che vanta una carriera di 40 anni è stata di recente al centro dell'attenzione per aver cantato in rappresentanza di Bob Dylan alla cerimonia di consegna del Nobel. La cantautrice ha avuto una defiance di memoria dovuta all'emozione. Dopo i pareggi negli anticipi Spezia-Vicenza e ieri Bari-Spal si completa oggi la ventunesima e ultima giornata del campionato di Serie B. Jenny De Gaetano. Un brindisi per il titolo di campione d'inverno. Platonico ma comunque indicativo avversari non certo morbidi sulla strada delle due capolista. Verona e Frosinone al Bentegodi arriva il Cesena finora deludente ma con una rosa da zone alte. Massima attenzione raccomanda quindi mister Pecchia. Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione a farla ad altissimo livello perché è una squadra che è costruita con giocatori di qualità, esperti. Noi per affrontarla dovremmo fare una prestazione di altissimo livello. L'altra capolista al Frosinone discena in Piemonte, terra della Pro Vercelli, quart'ultima in classifica Pasquale Marino, mister dei laziali. Non si vuol fermare. Riuscire a fare il risultato positivo è importante per la classifica, per il morale, per dare continuità a quello che è un periodo importante per noi dopo tante partite utili. Il Benevento quarta aspetta il Pisa per agganciare la spalla al terzo posto. Queste e le altre gare alle 15, Salernitana Perugia alle 17.30, Novara Carpi alle 20.30, Latina Vellino, Trapani Brescia, Ternanascoli, Cittadella Entella.